Sì, mi serve un costume! Costume? Ok, mostrami tutto quello che hai su Spider-Man. Sì, affido. Ok, no, no, no. Che c'è? Niente. Tu pensi al costume, io penso alla musica. Oh, adoro il Led Zeppelin! Ok, mi dai l'accesso agli Spararagnatele? Isola i Ragnatele a tenere, riconfigura e aumenta il voltaggio con un fattore del 25% e dammi controllo manuale completo sul detonatore. Ok, Fury ha avuto il messaggio in codice. Loro sono al Tower Bridge. Ok. Il tuo amico lo ha chiamato il London Bridge, ma ho capito. Io vado a prenderti, ok? Sì. Siamo vicini. Come va il costume? Quasi pronto. Bene. Aspetta, aspetta. Prima di andare... Se dovesse accadermi qualcosa, potresti darla a MJ. Tornerai sano e salvo. Gliela darai tu stesso, ok? Ce la farai. Fammi un riepilogo. So che è un'illusione, giusto? Non devo fare altro che entrare all'interno dell'illusione. Poi posso demolirla, trovare lui. E lui è solo un uomo, perciò riavrò il controllo di Edith. Certo. Ma l'ultima volta hai preso un treno in faccia. Vero, ma questa volta... Come faccio a spiegarlo? Ho tipo un sesto senso. Il Peter Prurito? Stai parlando di questo, giusto? Non funziona, però. Ho sentito che non funziona ultimamente. Funziona? Beh, non lo so se funziona, ok. Allora hai il Peter Prurito. È questo il piano. Io vado a prendere i tuoi amici. Tu rimetti online il Peter Prurito. Cielo, cielo, cielo. Fa gitu. Do�러 un po' Staino. Fa Merkel ca объясnenlo. Fins da militarti. Non vediamo entriolo di non. Peropera. Lenar. 2TG su textura. Cielo. Grazie a tutti